Il sabato sera tornerà in mano di Maria De Filippi molto presto. Dopo la fine di Tussi Kevales, Mediaset ha pensato di piazzare Grande Fratello Vip. Ma nello scontro contro Ballando con le stelle i risultati d'ascolto non sono stati dei migliori. Un grande errore da parte dell'azienda. La puntata di sabato 17 dicembre scorso è stata la meno vista fino ad ora dell'attuale edizione, 16. 25% 2 milioni e 104 mila spettatori. Per fortuna dal 7 gennaio 2023 il sabato sera di Canale 5 tornerà a volare in share e telespettatori grazie alla nuova edizione di C'è posta per te. Tante le nuove storie che Maria De Filippi racconterà in studio, e tante anche le persone che si succederanno dinnanzi alla busta. Il people show più amato del pubblico invernale del sabato sera porterà alla luce sentimenti e conflitti familiari. Ma anche volti noti come regalo che i protagonisti faranno ai propri cari. Chi sono gli ospiti di C'è posta per te 2023? Ospiti C'è posta per te 2023 e anticipazioni. Colpaccio di Maria De Filippi Durante le 25 edizioni andate in onda, sono stati diversi gli ospiti internazionali che hanno accettato l'invito di Maria De Filippi a presiedere nella sua trasmissione come Julia Roberts, Sean Penn, Patrick Dempsey, Dustin Hoffman, Jude Law, Bradley Cooper, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Owen Wilson e Johnny Depp. A C'è posta per te Charlize Theron farà ritorno nel 2023. La modella sudafricana, nonché grande attrice e produttrice cinematografica, rimetterà piede nello studio del people show dopo la sua partecipazione avvenuta nel 2014. La storia in questione è stata registrata lo scorso agosto quando Charlize Theron si trovava a Roma per girare The Old Guard 2. Sequel del film d'azione realizzato nel 2020 è diventato uno dei più popolari della famosa piattaforma fino ad oggi. C'è posta per te 2023 Stefano De Martino Ranieri Argentero tra gli ospiti Tra gli ospiti di C'è posta per te 2023 ci sarà anche Massimo Ranieri Impegnato con le riprese della nuova fiction targata Mediaset Tra i personaggi che saranno in studio per fare una sorpresa spicca anche il nome di Irama Faranno capolino a C'è posta anche Stefano De Martino che di recente ha svelato un segreto su Maria De Filippi e Luca Argentero L'attore Che tornerà sul set per girare la nuova stagione di Doc nelle tue mani Presto sarà papà bis di un maschietto dopo Nina Speranza nata nel 2020 La vita è stata願issima Europa 1986 da 25 anni Per quelle tue mani Sonate pip germaniche Anche le mani Si trate più Anche le mani Anche le mani Est promised Grazie a tutti.